Capitana Erika Rosati In attesa Pegaso alla porta Ronaldo A seguire Chuck, ultimo binomio della categoria B80 Capitana Erika Rosati Capitana Erika Rosati Abbiamo ora in campo il numero 117 di testiera Pegaso Erika Mordenti Capitana Erika Mordenti Capitana Erika Mordenti Capitana Erika Mordenti Capitana Erika Mordenti Grazie a tutti. Grazie a tutti.